L'ambiente e il clima visti attraverso l'obiettivo di mille fotocamere. Si tratta del nuovo progetto fotografico collettivo nazionale della FIAF, inaugurato al Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena, aperte contemporaneamente poi in Italia a corollario 100 mostre locali. Gli autori iscritti per partecipare al progetto nazionale sono stati 1161-1032 dei quali hanno inviato le loro opere per la selezione. Oltre 14.000 le immagini arrivate, sono stati così selezionati 228 autori per un totale di circa 1.516 fotografie in rappresentanza di 18 regioni italiane. La FIAF è stata la prima e sinora unica realtà ad aver strutturato e lanciato un progetto fotografico organico riguardante le problematiche ambientali, in funzione non solo di registrare in pianta l'attuale situazione italiana, a cavallo tra un passato di sfruttamento e scarsa preservazione dell'habitat naturale ed un presente che, pur ricco di contraddizioni, punta con decisione ad un futuro sostenibile ma di fornire anche un valido spunto per un'ampia riflessione di tipo culturale e sociologico.